Buongiorno a tutti, io sono Antonella Marelli e sono un analogista. Dico sono un analogista perché essere analogisti e non fare gli analogisti significa esserlo 24 ore su 24. Non solo l'analogista aiuta una persona che si rivolge a lei per risolvere i propri problemi, per perseguire il proprio benessere, la propria felicità, per superare delle difficoltà, per perseguire degli obiettivi, ma essere analogista significa esserlo 24 ore su 24 in ogni ambito della nostra vita. Quindi significa esserlo con la propria famiglia d'origine, imparando ad accettare e a perdonare i propri genitori. Significa esserlo in particolar modo, per me questo mi sta molto a cuore esserlo con i miei figli, perché conoscere la comunicazione analogica non verbale mi ha consentito di entrare in profondità, in comunicazione profonda con i miei figli. Mi aiuta ogni giorno a riconoscere il linguaggio emotivo, quindi il linguaggio di espressione reale di quello che è il loro sentire. Mi permette di conoscere la dinamica che sta sotto, che sottostà ai problemi che loro in qualche modo stanno vivendo. Quindi mi permette di instaurare una comunicazione efficace con loro per ottenere assenso e consenso e nel pieno rispetto della loro persona e delle loro difficoltà e dei loro disagi. Aiutandomi anche a prevenire, perché alcune conoscenze che sono strettamente legate alla filosofia analogica mi hanno permesso di evitare di creare l'insorgere di alcune difficoltà particolari in loro. Io sono analogista naturalmente nel mio studio perché il mio lavoro è non solo un lavoro ma una grande passione. ho trovato grazie alle discipline analogiche benemegliane la mia strada, ho cambiato completamente la mia vita, ero una fisioterapista, lavoravo in ospedale ed ora faccio solo ed esclusivamente questo perché questo è quello per cui io sono andata a fare. Sono analogista con me stessa naturalmente perché riconosco come comunica e che cosa mi vuol dire il mio inconscio praticamente istante dopo istante e riconosco le dinamiche che sottostanno ad alcuni miei disagi, alcune mie difficoltà, le dinamiche, le paure, i sigilli che in qualche modo mi bloccano nelle varie situazioni nel raggiungimento di alcuni miei obiettivi. Sono analogista per quanto riguarda il mio stato di benessere, la mia salute perché il motivo per cui io inizialmente proprio mi sono approcciata a queste discipline è stato un malessere fisico, un problema prettamente fisico quindi direi una somatizzazione e grazie alle discipline analogiche benemegliane sono riuscita ad uscire da questa condizione di malessere ma non solo di malessere anche di somatizzazione per poi entrare in un problema chiamiamolo così come diciamo noi ordinario e adesso la conoscenza, tutte le conoscenze che io ho mi permettono di mantenere questo stato di ordinarietà e quindi di stare nel benessere, di mantenere il mio stato di benessere, una buona qualità di vita e devo dire e di continuare a perseguire quella che è la mia felicità in ogni ambito. Io vi ringrazio, grazie dell'ascolto e vi auguro di avvicinarvi il più possibile a queste discipline che sono veramente fantastiche e hanno così come hanno stravolto in modo positivo la mia vita mi auguro lo facciano anche con voi. Grazie, ciao!